Grazie a tutti. 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 ... 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 roniendo... ... ... ... lo... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Siamo iniziata a evaluare e a investigare il passo che non conoscevano il Parlamento per Tuma, per quanto riguarda la subito di criminalità. In questo modo, in quanto riguarda i nostri conti, ci sono stati presenti diversi cartoni per quanto riguarda il tema. Qui, per esempio, è il concetto di trago maggiore, per quanto riguarda la scuola, per quanto riguarda la parte di men's and handle, per quanto riguarda la criminalità. In questo modo, ci sono stati presenti di insegnanti che si non sa 전 bambino, per quanto riguarda il sistema di sensazione con ilvoro, per quanto riguarda il sistema. La situazione è un cammino che rende grande, è stata portata fuori di trempano, non è sentito sicuro per avere attività non sociale, quindi è stato sicuro e preoccupante come paese, ma anche come traduzione sociale, ex-director di Stegna e Slaught Offer, con la traccia, con la parte del trauma, dopo di un attacco, dopo di un accidente di tráfico, ma è stato sicuro un punto molto importante. C'è un'unica cosa per la traccia di traccia di traccia di traccia di traccia, che non sono in un lavoro che sono attivo per buscare altro lavoro, come persone che non sono in un mondo di criminalità. L'uso di droga, altri tipi di aczioni, problemi mentali, tutti i tipi di situazioni sono qui, perché che un'unico scogli e scogli di criminalità e non bisogna di attendere a chi, però per quanto è tratta di traccia 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 di traccia, e questo è il nostro ministro, Stefano Martino, per la traccia di 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 traccia, che pensi? Mi può immaginare una mamma con un docio, una mamma che cobra, comprende il docio. È un po' più difficile che il pareggio che cobra il docio al minimo lungo, che c'è il riso e il minimo di pobreza. Una mamma con il docio in una corsoa è che c'è il bambino in linea di pobreza, che c'è il 25% della nostra comunità. È inattivabile. Ma se l'è il parlamentario Pauleta a treze per l'alante che c'è l'attenzione in linea di pobreza. Il parlamentario Pauleta è d'accordo che c'è l'attenzione di un problema di pobreza qui nella corsoa. È l'attenzione in linea di pobreza che c'è l'attenzione che c'è la nostra comunità che è più affettata in questa situazione. Non solo con un'entrata, né di un'economia, ma che c'è l'attenzione come comunità in tutto. Il ministro di S.O.A. ha bisogno di entregare su parte, il ministro di Salubrità, il ministro di FFRP, il transporte pubblico. Il transporte pubblico è pagabile, è accesibile. Il ministro di S.O.A. in verità di benestare per il nostro paese. S.O.A. Il ministro di S.O.A. Il ministro di S.O.A. l'anno anteriore è pagato diariamente. Nel giorno di S.O.A. aveva recentemente una fraccione di pari di Futsalbank che c'è un'instanza che c'è un paese di comienze e un paese di comienze per una famiglia necessaria. che c'è un'instanza di comienze di un giorno. L'interpreidione è una famiglia che i loro hanno una scuola e che si trate in un'instanza che si trate in un'instanza e che si trate in un'instanza di un'instanza di un sistema di famiglia naturalmente non si trate in un'instanza è un'instanza ma è un'instanza e di soluzione multifacettica. E quindi ci sono due forme che abbiamo bisogno di attenzione. Abbiamo bisogno di essere in un'opera, ogni ministro deve mettere un'interazione professionale in un team per attenzione in una situazione in un'opera, integrale e totalitaria. Il Parlamento Giselle Macquellium è di accordo che la situazione di violenza nel nostro paese è una situazione allarmante. Secondo il Parlamento Giselle Macquellium è un atto di violenza per la gente muore di una discriminazione per essere femenina. È una preoccupazione più grande nel corso e mondialmente, perché la Unione Europea nel 25 novembre ha decretato il Dio E come il Dio per la violenza contro la gente muore, e specialmente per la jovencita, anche come tema di non la gente che è dietro. La situazione nel corso è allarmante, ci si cifra di quasi 10 persone ma con l'unità e escono agressori per il bambino come una vita, non si no vi need 20 anni, non si non si un'imprimazione il processo di giver la polizia e poi lasse mai謝謝 e poi non si un'imprimazione perché non si fa capire due via scopi di miedo sociale, economiche e la città della bambina è una situazione di violazione di un bambino di una casa di parte di un partner La situazione è un po' horrible e mi chiede che noi cominciamo a capire, a consapevolezza e a cominciamo a tracciare le iniziativa per portare il panorama qui. Che cosa stai a fare, che cosa stai a fare per parte di terapia familiare? Che cosa stai a fare, non stai a fare, ma come stai a fare le iniziativa qui? La terapia familiare è molto importante per il momento in cui si crea il processo di genio, di famiglia che sono coinvolgendo in questo caso. Ora la violenza non è solo contro il genio, ma la famiglia è stata vittima di questa situazione. E per i geni, per continuare in questa società, è molto importante per ottenere l'ajudanza, per ottenere l'ajudanza. Quindi questo è un problema, perché per motivo di vergogna o di miedo, i geni non stai a fare la situazione. Nostra cosa stai a fare, quando arriva alla polizia, ci sono stati che i geni di Homba e ci sono stati che. E questo è un trampo per i geni, quindi, mondialmente, c'è una tendenza. La società è una pausa, non sei capace, e poi ci sono delle polizie che ci sono molto più piccoli, non ci sono un po' di persone che può essere fatto e non pensare come una situazione, c'è un sentimento che è il risultato e non capire il risultato come se passano. Ci sono il corpo uniforme, non c'è un'uniforme, perché non c'è violenza domestica, però